Rista davanti ad un asilo di Scampia, coinvolte sette mamme che sono attualmente ricercate dai carabinieri. Secondo le indagini e la testimonianza di una telecamera di videosorveglianza di un esercizio commerciale stabilito nei pressi della scuola, la lite è avvenuta a seguito di una discussione virtuale iniziata sul gruppo WhatsApp di mamme. A quanto pare l'istituto offre settimanalmente la possibilità a due genitori di partecipare alle attività della scuola per monitorare e seguire l'andamento dei propri figli e assicurarsi che le promesse didattiche siano rispettate. rispettate. Ovviamente l'addizione a questa iniziativa scolastica è distribuita a turni, ogni giorno due mamme alla volta già concordate. Una donna però arbitrariamente ha deciso di cambiare la propria rotazione con un'altra data, senza confrontarsi con altri genitori, provocando così una sovrapposizione. Questa sarebbe stata la miccia del litigio degenerato poi in una rissa violenta davanti all'istituto, ai bambini e ai propri figli, coinvolte inizialmente le mamme interessate che ha visto successivamente la partecipazione di altre donne che assistevano alla discussione. La stazione dei carabinieri di Scampia si trova esattamente di fronte all'asilo e quando sono intervenuti le mamme si sono date alla fuga. Anche se inizialmente sembrava si fossero disperse le tracce, a testimoniare lo spiacevole evento è una telecamera che identifica le assalitrici.